Con l'informazione di oggi a nord-est, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, ha approvato l'affidamento in delegazione amministrativa al Comune di Propetto della progettazione e realizzazione delle opere necessarie al completamento del ciclabile Porpetto San Giorgio di Nogaro per un importo di 150 mila euro. Provediamo così, commenta Pizzimenti, al completamento di uno degli archi del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale, che la legge regionale Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa 8 2018 identifica come una delle sue finalità. Tale opera, aggiunge l'assessore, riveste carattere di urgenza per garantire sicurezza agli utenti deboli della strada, essendo il tratto Porpetto San Giorgio di Nogaro caratterizzato da un importante carico di traffico veicolare, soprattutto nella funzione di collegamento tra il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro lungo la A4 e la zona industriale della Aussa Corno. La regione sottoscriverà un protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto pilota per il recupero delle capsule esauste di plastica che derivano dalla preparazione del caffè con le macchine da bar o domestiche. Tale protocollo, che come stabilito l'esecutivo, sarà siglato dall'assessore regionale all'ambiente dell'energia Fabio Scocci Marro, rientra tra le azioni volte a favorire l'economia circolare. Attraverso la raccolta differenziata dei materiali, spiega Scocci Marro, prassi nella quale il Friuli Venezia Giulia, tra le prime regioni in Italia e il loro recupero differenziato, diviene possibile rimettere nel mondo produttivo, quindi per l'utilizzo da parte dei cittadini, una parte dei rifiuti solidi urbani, concretizzando così un segmento dell'economia circolare. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deliberato un'ulteriore estensione straordinaria fino al 31 dicembre 2021 dei termini per la presentazione della richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo per le operazioni già in corso di attuazione rispetto alla misura e investimenti a favore della crescita e dell'occupazione della PORFES FVG 2014-2020. Tale provvedimento, che arriva dopo il primo già concesso al 31 dicembre 2020, è stato proposto dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Il comune di Cavarzere ha inaugurato la riapertura dell'ex macello. Sono stati completati i lavori di restauro conservativo dell'ex monta Equina e del muro di cinta in mattoni che delimita il cortile sul lato di via Marconi, opere per le quali l'amministrazione ha impiegato 900 mila euro finanziati con fondi ministeriali e 90 mila derivanti dalla finanziaria del 2020. Udine, torri per le telecomunicazioni intelligenti, eleganti e di design che non solo diffondono connettività per la nuova infrastruttura 5G, ma sono sempre più a servizio di municipalità e multiutility per lo sviluppo della Smart City. Grazie all'utilizzo di software di gestione evoluti, queste Smart Tower sono uno dei pilastri della nuova città sicura, ecosostenibile e interconnessa a cui forniscono ad esempio illuminazione al bisogno, controllo dei livelli di inquinamento, sicurezza attraverso telecamere e attività di videoanalisi, ma anche collocate in ambienti chiusi come stazioni, aeroporti, stadi, fiere, monitoraggio del flusso di persone, informazione e intrattenimento su grandi schermi LED integrati. Sport calcio, la Triestina frena con l'ultima in classifica Rezzo 2 a 2 allo Stadio Rocco. L'Unione è stata capace di riequilibrare con doppietta di Gomez, uno su rigore, due incertezze di Offredi sulle punizioni di Pinna, ma nel primo tempo gli alabardati non hanno sfruttato tante occasioni. Domani sul Friuli, Venezia, Giulia, cielo in genere sereno con inversione termica e gelate notturne a fondo valle e localmente in pianura. Sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata, specie dal pomeriggio. Temperature minime in pianura da meno 1 a più 4, le massime da 15 a 17 gradi. Sulla costa le minime da 4 a 7, le massime da 13 a 15 gradi centigradi. Passiamo al Veneto. Tempo stabile con cielo sereno e aria terza, specie in alta montagna, non esclusa qualche foschia o locali nebbie in pianura, nelle valli nelle ore più fredde, assenza di precipitazioni, temperature minime in diminuzione in pianura, stazionarie nelle valli in aumento in quota, con accentuazione dell'inversione termica e valori un po' inferiori a zero anche in pianura, massime in ripresa. Previsioni a cura di ARPA e FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nordeste è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Spon Break NM Magazine, la prima e unica rivista italiana sul network marketing, dedicata al Networker. Scopri la versione online su www.nmmagazineworld.com www.nmegazineworld.com Ar equality Grazie a tutti.